Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza puntata IG Talk. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. La puntata di oggi prende spunto da uno dei fenomeni più vistosi occorsi sul mercato assicurativo italiano negli ultimi anni, ovvero il boom del mercato salute, capace negli ultimi 5 anni di far segnare una crescita della raccolta premi del 25%, ovvero una velocità circa 6 volte più grande del resto del business danni. Iniziamo con l'inquadrare il contesto nel quale ci muoviamo. In primo luogo aumenta, e lo fa da tanti anni, la spesa sanitaria out of the pocket, ovvero le spese che di tasca propria vengono sostenute dai cittadini per spese mediche, perché non ritengono soddisfacenti o disponibili i servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale. In secondo luogo, siamo una popolazione che invecchia ma non invecchia bene. Se aumenta di 3 anni la vita media di ognuno di noi, aumenta di 6 la vita trascorsa in situazioni di cronicità, quindi le malattie croniche insorgono prima. Infine, non abbiamo bisogno di studi di mercato o di dati particolari per parlare di isolamento e associarlo al Covid. Il Covid infatti ha cambiato profondamente le nostre esperienze di vita e ha avuto anche il merito probabilmente di ridefinire alcune cose. Ci ha fatto capire in primo luogo la corretta priorità probabilmente della salute rispetto al resto degli altri valori e in secondo luogo ci ha fatto capire quanto le componenti psicologiche ed emotive hanno a che fare con la definizione stessa del concetto di salute. In merito a questo concetto mi interessava fare il punto su alcuni studi recentemente emersi che hanno un focus primario sul mondo del lavoro, ma si sa il lavoro è comunque una parte importante delle nostre vite. Cominciamo ad analizzare i due studi fatti da McKinsey nell'ottobre 2021, The Great Attrition, e dal Work Trend Index di Microsoft di marzo del 2022. Entrambi con un linguaggio diverso oppongono l'attenzione sulla necessità di dare nuovi contenuti al lavoro e da un punto di vista di gestione dei rapporti con le persone, invocando una leadership più inclusiva e più gentile, e della necessità di trovare qualcosa in più nel lavoro, nel senso del lavoro per i propri dipendenti, parlando di engagement e di purpose. Un altro studio interessante è stato pubblicato da Fior del 2022 e pone l'accento su determinati componenti di veracità dell'istinto individuale. Si parla di trend come siate voi stessi o come trattare con cura, intendendo appunto la necessità di combattere, di filtrare l'individualismo davanti alla necessità di tornare a vivere una dimensione collettiva, prendersi cura, chiedere aiuto o dare aiuto. Oppure ancora un terzo trend è il valore della verità, ovvero come ritornare ad avere fiducia in un mondo che è in bancarotta dell'informazione, per usare le parole dello studio stesso. Oltre agli studi volevo poi fornire un paio di dati, un paio di dati che senza la tecnologia non sarebbero mai potuti accadere, danno quindi un'indicazione di quanto la tecnologia è importante nel discorso che stiamo facendo. Il Green Pass, il Green Pass ci ha dato una vera cognizione pratica di quella che è la dimensione collettiva della salute e Speed. Speed dall'inizio della pandemia a marzo 2022 ha aumentato i suoi utenti da 3 milioni a 29 milioni, segno che effettivamente non esistono più quelle barriere preconcettuali davanti all'utilizzo della tecnologia quando questa serve davvero. Ora, tutte le cose che ho detto vi prometto troveranno un loro filo conduttore nell'intervista che stiamo per fare. Il mio ospite oggi è Andrea Severino, amministratore delegato e fondatore di Elty Virtuoso. Elty Virtuoso è una società la cui missione è promuovere il benessere di una collettività, sia essa la base dipendente di un'azienda o la clientela di una compagnia di assicurazione. E per promuovere il benessere usa meccanismi di gamification finalizzati a motivare, a stimolare la collettività ad adottare comportamenti salutari. Caro Andrea, grazie per essere qui anzitutto. Allora, come si inserisce la tua impresa nel contesto di cui ho appena parlato? Marco, grazie mille a te per l'invito, grazie a Guideware, Elty Virtuoso è una start-up nata con l'obiettivo di incentivare le persone ad avere uno stile di vita salutare. Tutti conosciamo l'importanza di fare 10.000 passi al giorno, 30 minuti di sport, 8 ore di sonno, però quando vediamo le statistiche ci rendiamo conto che il 60% della popolazione è sedentare, il 40% è sovrappeso, il 25% è rischio burnout. Allora, quello che abbiamo fatto noi è stato chiedeci perché e come avremmo potuto cambiare questo trend, portando non soltanto un beneficio per le persone ma anche per l'intera comunità. Da qui, partendo dal presupposto che le persone spendano un terzo della vita sul proprio posto di lavoro e si aspettano che sia il datore di lavoro a prendersi cura della loro salute, abbiamo deciso di creare un'impresa, una piattaforma e un ecosistema che incentivi e motivi le persone a cambiare le proprie abitudini. Sta funzionando molto bene, sta andando proprio nella giusta direzione, l'abbiamo visto specialmente dopo questi ultimi due anni dove la salute e la prevenzione è diventato uno dei principali punti di focus, di attenzione non solo delle persone ma anche delle imprese, delle compagnie assicurative e di tutto il mondo che ci circonda. Mi interesserebbe approfondire con te un po' di più l'elemento della motivazione, no? Perché giustamente tu hai fatto riferimento al fatto che ci sono, tutti quanti sappiamo che certe cose fanno bene, quanto sia importante i passi al giorno, dormire bene, eccetera, però alla fine nessuno lo fa. Io ho un problema analogo col cibo ma non ne parliamo in questo momento. Però credo che la motivazione sia interessante nelle due componenti, no? Che è il virtuoso ai di cui mi sono appassionato quando me l'hai fatta scoprire. Da un lato c'è il tema della gamification e quindi del mettere in competizione le persone tra loro, quindi poi magari mi racconti anche un po' più di come avvengono queste cose. Dall'altro c'è anche un tema dall'altro dal punto di vista di chi acquista i tuoi servizi, che tipicamente mettiamoci il cappello di un direttore risorse umane di un'azienda che esprime un purpose dell'azienda, un bisogno di fare una cosa che abbia un senso per i propri dipendenti e che faccia bene i propri dipendenti. Recentemente, ti faccio un esempio, ho scoperto tramite una collega che ha aperto recentemente a Milano una catena di palestre che si chiama Brooklyn Fit Boxing che prevedono la box senza contatto, quindi solo col sacco e all'interno del sacco ci sono dei sensori che registrano quella che è la tua forza. Registrano la tua forza, l'energia, quanti colpi dai eccetera, la mettono in rete e lo fanno vedere a tutti quanti gli altri che lo mettono insieme in rete con tutte le altre palestre negli altri posti del mondo e installano questa competizione. E dall'altra parte c'è un claim, anche qui si richiama il concetto di purpose, in cui si parla di combattere i veri nemici e quindi l'energia che tu sprigioni si trasforma in punti e in soldi da destinare a iniziative benefiche. Secondo me il mix di queste due cose è un pattern riconosciuto, tu ci sei arrivato qualche anno fa, però mi interessava avere appunto il tuo punto di vista su questo concetto. Assolutamente, noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2017 dopo diverse esperienze, diversi test. Penso che sia molto importante il punto di partenza. Siamo partiti intervistando più di 650 persone, cercando di capire come mai vi queste abitudini poco salutare. Tutti ci dicevano il lavoro, il tempo, i figli, questo è un pattern riconosciuto diciamo. In realtà andando a fondo con un team di psicologi clinici e comportamentali dell'Università Cattolica ci siamo resi conto che era prevalentemente mancanza di motivazione e di guida. Allora mi ho detto che cosa possiamo fare per motivare queste persone, perché lo so che quello è giusto, però non ho la motivazione. Allora abbiamo iniziato a lavorare sul perché. Perché io dovrei cambiare quello? Come cambio questo? Siamo partiti utilizzando il nudging, che è una teoria della psicologia comportamentale, ovvero la spinta leggera. Faccio un esempio molto banale. Se io so che una persona ha una media di 3.000 passi al giorno, questo lo posso scoprire banalmente dai dati presenti sullo smartphone, è inutile che io gli dia un obiettivo di 10.000 perché è troppo lontano, io gli ho un obiettivo di 4.000, di 3.000. Quando arrivo all'obiettivo lo gratifico e piano piano lo porto a crescere. Dopodiché abbiamo deciso di utilizzare il gioco, perché il gioco è qualcosa che conosciamo da quando siamo piccoli. La sfida, la competizione, il premio, la raccolta di punti, lo viviamo in tantissime realtà e funziona già molto bene, non l'abbiamo inventato noi. Da qui si è evoluto tutto, si è accogliendo il feedback delle persone, accogliendo le recensioni positive e negative, cercando di capire come continuare a migliorare questo percorso. Siamo andati ad aggiungere dei punti, tenendo sempre a mente la nostra missione, cioè perché lo stiamo facendo, perché vogliamo migliorare la vita delle persone. Quindi tutto quello che facevamo doveva stare in piedi sia per le persone che dovevano avere una motivazione adatta, banalmente faccio l'esempio delle aziende, entra in atto la vanità delle persone. Sono un dipendente, non avrò mai la visibilità dell'amministratore delegato, ma qui ho l'opportunità, o posso interagire con lui. La sfida, la competizione sociale tra colleghi, ci sono delle grandi aziende, che non cito, che fanno le competizioni su chi è più produttivo. Questo crea un senso di frustrazione, perché magari non tutti hanno gli stessi strumenti, le stesse posizioni. Noi abbiamo deciso di farlo con lo stile di vita, quindi banalmente una gara, chi farà più passi in 24 ore, chi manterrà uno stile di vita salutare. E questo oggi ci sta portando delle grandissime soddisfazioni, perché non soltanto ci aiuta a coinvolgere fino al 40, 50, anche il 90% dei dipendenti in alcuni casi, ma ci permette anche di dimostrare che queste persone dopo sei mesi, un anno, hanno cambiato le proprie abitudini e sono migliorate. E questo per noi è il modo in cui portiamo avanti queste iniziative tenendo in considerazione le persone, che sono quelle che poi devono utilizzare i servizi nel breve, nel medio e nel lungo termine. Gli stakeholder, come ad esempio gli HR manager, che decidono di comprare queste iniziative non perché le persone si divertiranno di più, ma perché così avranno un ambiente di lavoro più sano, avranno una maggiore produttività, avranno dei minori costi. E poi il purpose che vogliamo raggiungere, cioè creare un impatto sulle persone, ma anche sull'intera comunità. Tu dicevi fondata nel 2017, mi dai qualche highlight di quali sono i risultati, la penetrazione attuale di Elti Virtuoso? Guarda, per alcuni anni abbiamo cercato la nostra strada, perché avevamo questa idea di premiare le persone per avere uno stile di vita salutare, però è stato molto difficile riuscire a monetizzarlo, puntando su vari settori, farmaceutico, assicurativo, eccetera. In realtà la nostra strada l'abbiamo trovata poco più di un anno fa, quando abbiamo deciso di concentrarci sul mondo delle aziende e da qui si sono unite circa 130.000 persone che si sono registrate all'app, più di 70 multinazionali, quindi oggi collaboriamo con aziende come Intesa San Paolo, In Italia all'estero, Prismian, Whirlpool, KPMG, aziende di ogni dimensione, dai 50 dipendenti agli 80.000, in ogni parte d'Italia, d'Europa, nel mondo, e con un altissimo tasso di soddisfazione, cioè quello che ci dicono i clienti, faccio un esempio di American Express, come azienda ha una visione molto forte del well-being delle persone, ci dice noi non abbiamo mai avuto un'iniziativa che ha funzionato così tanto, o altre aziende che ci dicono all'interno dell'azienda da quando è partita, non si parla d'altro, questo per noi è la soddisfazione più grande, più del fatturato, più del numero di aziende, di persone che la utilizzano. Grazie mille per la risposta Andrea, e un'altra domanda, in ogni puntata di Digitalk io cerco di lasciare l'ultima fase in quella che chiamo la sfera di cristallo, cercare di fare delle previsioni su alcuni temi. Prima cosa, un flash un attimo sulla tua esperienza da start-upper, nel senso si fa un grandissimo parlare delle iniziative di start-up, di come appunto grandi promesse, grandi opportunità, si dimentica spesso la legge del venture capitalist, per cui ci sono su 100 iniziative, ce ne sono 5 destinate al successo e 95 destinate al fallimento, hai fatto percepire prima che ci avete messo del tempo a trovare la vostra strada, eccetera, quindi mi faceva piacere anche avere prima qualche dettaglio sull'esperienza di questi anni e poi passare sulla base di questa esperienza a fare qualche previsione. Intanto dici qualcosa di che significa fare innovazione in Italia e in questo contesto? Fare innovazione è un percorso molto complesso, dove bisogna avere più motivazione che soldi, perché con la motivazione poi si possono abbattere tantissime barriere. È un percorso che va a tappe, quindi come tutti i giovani ambiziosi ci si butta, si prendono dei rischi, è molto importante avere una vision e una mission da perseguire e portare avanti nel tempo, è importante studiare, è importante collaborare, quindi quello che abbiamo fatto noi specialmente all'inizio è stato cercare di circondarci dei più manager esperti del settore chiedendo consigli, chiedendo informazioni, chiedendo supporto. Questo ci ha permesso di approvare, validare e costruire un mattoncino dietro l'altro. Così abbiamo raggiunto i primi finanziamenti, secondi finanziamenti oggi abbiamo raccolto circa un milione e mezzo, che non è una cifra banalissima in Italia per una startup e passo dopo passo abbiamo provato. Io penso che il termine startup non debba essere il fine da raggiungere, ma lo strumento che utilizziamo, quindi l'inizio di un'impresa che si basa su un obiettivo, un purpose e continua con dei processi di validazione che poi si devono anche sostenere economicamente con un mercato che funziona, che dà delle risposte, che porta dei risultati. Il futuro è sempre incerto, sicuramente ci sono dei trend, sicuramente ci sono delle statistiche, delle ricerche da cui bisogna partire. Noi siamo partiti inizialmente proprio dal cambiamento che avrebbe dovuto affrontare il mercato assicurativo. Normalmente avevamo visto che il mercato dell'automotive stava scendendo, sta arrivando la guida autonoma e abbiamo detto, abbiamo visto che per esempio c'erano delle grandi opportunità sull'health. Abbiamo detto, l'altro punto, il servizio sanitario non riuscirà nel lungo termine a sostenere questi costi, il 40% delle persone in Italia soffre di almeno una patologia cronica. Crediamo che il futuro sia nella prevenzione e nei servizi. Quindi da qua siamo voluti partire per validare questo percorso, che poi si è voluto in tutt'altro, quindi nel partire dalle aziende. Però è... No, no, si è voluto in tutt'altro, la realtà oggi dice che voi andate fortissimo nel contesto appunto delle aziende e speriamo presto di ingranare di più nel contesto assicurativo, dove una cosa di cui si parla, ecco che parte la mia voce da operatore del settore, una cosa di cui si parla tantissimo a livello di assicurazioni è l'utilizzo di ecosistemi, no? Ovvero la possibilità di avere dei partner e di usare i servizi di partner, ovvero ognuno si specializza in quello che è bravo a fare e insieme la somma di quello che si è incapace di fare offre un servizio al cliente che è migliore. Però sembra che le assicurazioni siano più propense a inglobare che non a utilizzare gli ecosistemi. Qual è il tuo punto di vista? Allora devo dirti che noi abbiamo fatto un bel giro del mondo, quindi oltre all'Italia siamo stati in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, parlato con assicurazioni giapponese e australiane e c'è un pattern abbastanza consolidato da questo punto di vista. Credo che il successo, come dicevi tu, arrivi dal lavorare insieme. Noi questo lo facciamo tra start-up a livello di ecosistema, ad esempio abbiamo incominciato a lavorare insieme, fare una joint venture con una società che si chiama MediSpa e che ci permette di aggiungere servizi e quindi andare a fare i check-up nelle aziende. Stiamo costruendo con loro il Wellbeing Index per capire qual è il livello di benessere delle persone e delle aziende e da lì partire per costruire dei programmi. Ma questi sono solo degli esempi. A livello assicurativo, per la mia esperienza devo dirti che mi è capitato spesso di avere degli interlocutori che si aspettassero delle soluzioni che, chiave in mano, da un giorno all'altro permettessero di avere un milione di clienti o 100 milioni di fatturato in più. Una start-up, se avesse la possibilità di portare una compagnia assicurativa un milione di clienti in più o 100 milioni di fatturato probabilmente non andrebbe a farlo con una compagnia ma lo farebbe da solo, però una start-up ha quella fame, quella voglia, quella visione e meno barriere di una struttura più consolidata che permette di andare veloce, di testare, di validare, di sbagliare, sbagliare velocemente e continuare a iterare, quindi continuare a lavorare per raggiungere la giusta soluzione. Questo è quello che piano piano sta succedendo nel mondo assicurativo. Noi adesso siamo entrati per la seconda volta all'interno di plug and play che è uno dei terzo acceleratore più grande al mondo nel Lab di Monaco, proprio Insurtech dove ci sono diverse compagnie assicurative italiane e il nostro obiettivo è proprio quello di co-creare, cioè prendere quelli che sono i pain del mercato, prendere quelli che sono le opportunità che può offrire la start-up, lavorare insieme, iterare e sviluppare anche con una suddivisione del rischio. Quindi fare innovazione non vuol dire trovare un modo diverso per fare nuove revenue model, ma vuol dire creare e trovare nuove strade e questo implica un percorso che se viene fatto solo da una parte o solo dall'altra difficilmente potrà aver successo. Secondo te c'è una convergenza quindi tra i due contesti, cioè tra il vostro mondo e quello delle assicurazioni nel cercare appunto di fornire un servizio che sia da un punto di vista di salute un po' più a 360 gradi e che prenda un po' in considerazione quelle che sono tematiche che poi sono la base della prevenzione. Se c'è questa convergenza su cosa si basa? Allora credo che la convergenza c'è o comunque debba esserci perché tutti abbiamo lo stesso obiettivo, quindi far star bene le persone. Credo che le compagnie assicurative così come le start-up abbiano un importante ruolo nel sociale. Quindi questo secondo me è un punto cardine per creare insieme questi servizi. È importante che questi processi vengano sviluppati a 4, 6, 8, 10 mani con i tempi, con i budget ma soprattutto con il coraggio di dire mi metto in gioco e sono disposto a sbagliare pur di raggiungere il mio risultato. Quindi c'è, sta arrivando, ci vuole ancora un po' di tempo e è necessario che gradualmente in tutto l'ecosistema innovazione non solo delle assicurazioni, cambia un po' anche la cultura proprio del rischio, dell'investimento e del percorso che va fatto per raggiungere questi obiettivi. E credo che effettivamente non ci sia di meglio che augurarsi, no? Se il presupposto è che tutti gli attori hanno a cuore giustamente il benessere della comunità di clienti che servono, penso che questa sia una strada che tutti quanti dobbiamo auspicare che arrivi. Siamo arrivati anche qui, anche oggi, alla fine di questa puntata. Io ti ringrazio molto per il contributo e per gli spunti che ci hai dato. È stato un piacere e ci vediamo alla prossima puntata Digitalk. Grazie a tutti.